personalmente trovo intrigante il fatto che sia proprio una versione del sort per scambio notoriamente la peggiore tra gli algoritmi elementari che con una variante diventi poi invece l'algoritmo se non il migliore certamente tra i migliori che si possono immaginare per ordinare un array qua devo cominciare a sottolineare questo aspetto array perché come vedremo nei prossimi video è altrettanto importante considerare gli algoritmi di sort di strutture dinamiche come liste concatenate e lì vedremo che la palma d'oro se la gioca invece un altro algoritmo ve lo dico in un altro modo il quick sort è meglio per gli array il merge sort è generalmente considerato migliore invece per le liste vediamo subito un pochino nel codice ho preparato a mano l'array corrisponde allo stesso nello schema a 10 elementi al quick sort come funzione chiedo di ordinare quindi questo v indicando gli indici estremi di inizio cioè del suo primo elemento e dell'ultimo elemento che voglio ordinare da 0 alla posizione n-1 che corrisponde all'ultimo elemento il 10 beh poi sotto una stampa per verificare che il vettore sia stato effettivamente ordinato andiamo allora a vedere quello che fa la funzione quick sort riceve il vettore l'indice inizio l'indice fine è una funzione ricorsiva cioè che chiama se stessa nel suo codice lo vediamo qua sono due chiamate a se stessa ma ogni volta su una parte più piccola dell'array si procede per partizionamenti in cui ad ogni step si individuerà una parte che sta a sinistra di un elemento che fa da bivou rispetto al quale stiamo ordinando e sistemando gli elementi e una parte destra ogni volta lo vedremo poi più in dettaglio la funzione restringe il blocco degli elementi sui quali chiede a se stessa di procedere con l'ordinamento si parte con tutto l'array si considera l'elemento alla posizione inizio per la prima chiamata inizio corrisponde a 0 e quindi l'elemento ha il valore 81 81 è diventato a questa tornata il pivou alla fine dell'operazione di questa passata dovremmo avere alla sinistra dell'81 tutti i valori più piccoli e alla sua destra tutti quelli più grandi ma è chiaro che dovremmo prima riposizionare l'81 altrimenti come faremmo a mettere prima di lui degli elementi di quanto dobbiamo spostarlo? dove? beh, dipende da quanti sono quali più piccoli di lui ce le andremo semplicemente a contare con un ciclo 1, 78, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e allora l'81 non dovrebbe stare qui dovrebbe stare 7 posizioni più in là vuol dire che lo vado a scambiare più 1, più 2, più 3, più 4, più 5, più 6, più 7 con questo 45 e già questo ci fa capire che il quicksort quindi non è un algoritmo stabile perché non mantiene l'ordine relativo tra elementi con lo stesso valore questo 45 che adesso si trovava alla destra di questo lo vado a spostare al posto del pivot e quindi vado a violare il criterio di stabilità e questo lo mettiamo qui siccome il pivot ha 7 elementi più piccoli di lui lo metto in ottava posizione cioè dove era prima più 7 e abbiamo assegnato all'elemento pivot la posizione giusta coloriamolo magari in giallo ok questo è il pivot fase preliminare collocamento nella sua giusta posizione del pivot terminata stiamo qua lavorando tra 0 e 9 ricordiamocelo ma il partizionamento non è ancora completato è chiaro che occhio questo 1 e 10 non devono stare alla destra l'81 ma a sinistra come si procede allora? si impostano due variabili una per scorrere da sinistra il vettore e una per scorrere da destra retrocedendo ovviamente i e j eccole la i parte da inizio la j partirà sempre da fine poi si incrementa la i fino a trovare un elemento che dovrebbe stare alla destra dell'81 che quindi dovrebbe essere spostato 45 no 45 è giusto che stia alla sinistra dell'81 incrementiamo la i 98 a cavolo il 98 non dovrebbe stare qui dovrebbe stare alla destra dell'81 dove? eh andiamo a trovare un buon elemento con cui scambiarlo adesso si va a decrementare la j finché non si trova un elemento che sia più piccolo del pivot dell'81 ci siamo già in pratica il ciclo che dovrebbe decrementare la j si ferma subito abbiamo i due elementi che vanno scambiati il 98 viene scambiato col 10 ed è giusto così il 10 deve stare alla sinistra dell'81 e il 98 deve stare alla sua destra notate che non stiamo mettendo necessariamente questi due numeri nella posizione che avranno alla fine stiamo solo sistemando un po' le cose guarda intanto mettiamo a sinistra tutti quelli piccoli dell'81 che errore non è e alla destra tutti quelli che sono più grandi poi la i si sposta qui e si ricomincia da queste due posizioni incrementiamo la i finché non troviamo un elemento più grande dell'81 non è il 78 non è il 60 ci fermiamo con la i sul 115 ah! altro elemento che potrebbe stare alla destra del pivot troviamo un candidato per lo scambio usando la j di nuovo la j è già su un elemento buono uno e più piccolo di 81 scambiamo allora il 115 con l'uno cioè l'elemento bisogna i con l'elemento bisogna j e poi decrementiamo j beh o meglio alla fine nell'algoritmo prima andremo a incrementare la i e poi andremo a decrementare la j e qua ci dobbiamo fermare perché la j non è più maggiore della posizione del pivot non devo scambiare il pivot e scombinare tutto no? ma sarebbe anche potuto capitare il contrario cioè che la i dipende dal valore del pivot no? su quanti ci sono a sinistra e a destra questa volta è capitato con la j d'accordo ci dobbiamo fermare a questo punto il partizionamento la fase di partizionamento è terminata abbiamo spostato tutti gli elementi più piccoli del pivot alla sua sinistra e tutti gli elementi più grandi del pivot alla sua destra nel codice siamo qui e la funzione che ha operato questo partizionamento andrà a restituire che cosa? la posizione del pivot infatti vediamo qui adesso lo guardiamo con più attenzione il codice per ritrovare questo algoritmo termina restituendo proprio la posizione del pivot perché la funzione principale quicksort deve sapere che il pivot è qui per determinare che la parte a sinistra che deve essere ancora ordinata è questa qui e lo posso sapere solo se gli dico guarda che il pivot è in posizione 7 ah ok allora andrò a comandare adesso la quicksort sul segmento a sinistra del primo pivot cioè da 0 a posizione pivot 7-1-6 infatti a sinistra dobbiamo sistemare le cose da 0 a 6 ed è quello che fa la funzione che sta gestendo il tutto questa è la posizione del pivot restituito dal partizionamento e dice ah ok allora adesso devo ordinare prima a sinistra quindi chiamo ancora me stessa chiamata ricorsiva ma su un problema più semplice non da 0 a fine 0-9 come prima ma da 0 a 1 in meno del pivot come si diceva no? 1 in meno dell'81 fino a 45 da 0 a 6 al ritorno da questa chiamata ma sarà una strada potenzialmente anche molto lunga parecchio tempo a aspettare adesso vediamo di capire perché il quicksort completa il tutto ordinando chiamando se stessa sulla parte di destra cioè sulla parte che inizia una posizione dopo il pivot e fino alla fine è che a ogni chiamata questo inizio e fine cambiano perché quando verrà chiamata la quicksort sulla parte che sta a sinistra per lei per quella seconda invocazione l'inizio è 0 ma fine è 6 non più 9 come la prima e quando si farà la chiamata a destra del pivot per quella quicksort inizio sarà 8 e fine sarà 9 e quindi andrà a lavorare in questo pezzettino qui ripetiamo il partizionamento col codice sotto gli occhi ho messo qualche stampa che poi vediamo per aiutare a capire quello che sta succedendo ma andiamo al succo ecco il valore del pivot è v di inizio in questo caso alla prima chiamata del partizionamento v di 0 cioè l'81 poi per collocare alla sua posizione che gli spetta questo valore un banalissimo ciclo che conta partendo da inizio e arrivando fino a fine compreso fino al 10 quanti sono gli elementi più piccoli del pivot per sapere dove spostare in avanti verso destra il pivot ok una volta che trovo 1 conto più più per arrivare a quel 7 ce ne sono 7 che sono più piccoli del pivot ah ok allora spostiamo il pivot nella sua posizione l'indice del pivot quello che gli spetta di diritto è inizio più il numero di elementi che sono più piccoli di lui inizio più cont e poi faccio lo scambio scambio quello che si trova lì con il pivot scambio il 45 questo 45 con il pivot che ora ha il posto giusto ora dobbiamo fare un po' di ordine prendo i e la piazza su inizio e j su fine così finché la i è più piccola dall'indice del pivot e la g invece è più grande questo ciclo incrementa la i alla ricerca se c'è di un elemento cui valore è più grande del pivot come dire incrementa la i finché è vero che v di i è minore o uguale del pivot potrebbe trovarlo o non trovarlo a questo giro lo troverà la i si fermerà l'abbiamo visto prima sul numero 98 e questo piccolo ciclo while interno ha assolto il suo compito e si ferma ora tocca un altro ciclo while che decrementando la j cerca di localizzare un elemento che è più piccolo del pivot quindi finché sono con un v di j su un elemento che è più grande del pivot cioè v di j più grande del pivot dell'81 decremento la j neanche una volta perché siamo già su un v di j che non è più grande ma è più piccolo del pivot il 10 più piccolo dell'81 quindi questo ciclo while non parte neanche questa volta ora ma solo se la i è su una posizione alla sinistra della posizione del pivot e la j è su una posizione che è alla destra rispetto a quella del pivot e il senso di questo controllo sarà possibile procedere ad uno scambio altrimenti vorrà dire o che la i non ha trovato un elemento alla sinistra del pivot con un valore più grande o la j non ha trovato alla destra del pivot un elemento con un valore più piccolo e quindi non c'errebbe nessuno scambio da fare il ciclo while più esterno poi se ne accorgerebbe e il partizionamento terminerebbe altrimenti si fa lo scambio il 98 col 10 scambiamo v di i con v di j il 98 col 10 poi incrementiamo la i e decrementiamo la j vabbè adesso il meccanismo si ripete siamo ancora nelle condizioni per individuare un elemento che non dovrebbe stare lì dov'è alla sinistra dell'81 il 115 e di qua e scambiare il 115 con l'1 poi questo viene incrementato questo viene decrementato e fa scattare nel senso di rendere falsa la condizione del while non è più vero che sia la i è più piccola del pivot come posizione e che la j è questa che diventa falsa non è più vero che è più grande della posizione del pivot la j è diventata uguale alla posizione del pivot all'indice del pivot e anche questo ciclo while termina stiamo per tornare alla funzione principale quicksort che stava aspettando qui che il partizionamento sistemasse le cose e che gli restituisse la posizione del pivot che è stato utilizzato cosa che facciamo qua l'indice del valore 81 cioè 7 questo riceverà come risultato la funzione quicksort che ora chiama se stessa dicendo ah ok ora che abbiamo sistemato tra 0 e 9 e sappiamo che il perno il pivot era in posizione 7 mi ordini la parte che va da 0 a 6 e la parte che sta a destra cioè che inizia da pivot più 1 a fine ora se fossimo in un contesto come spesso in effetti siamo di multitrading potrei creare un nuovo thread e affidare a lui l'esecuzione di questa invocazione di quicksort sulla parte di sinistra e la stessa cosa a fare su quello di destra ma si tratterebbe di un'ottimizzazione a livello hardware in un certo senso vediamo dal punto di vista concettuale quello che succede e che cioè la prima chiamata quella che fa il main di quicksort quando arriva qui si mette in attesa su questa riga e prima che lei riesca a fare la chiamata a destra dovrà essere sistemata tutta questa parte con altre chiamate a quicksort su pezzettini sempre più piccoli sinistra-destra 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 anzi sempre sinistra sinistra-sinistra sinistra sempre lasciando in sospeso la chiamata a destra vediamola con un albero perché è importante e interessante capire quello che succede davvero dietro le quinte ecco spero di aver commesso errori ma l'importante è che sia chiaro il procedimento il main chiama il quicksort dando come estremi 0 e 9 l'abbiamo visto il partizionamento viene con l'81 preso dalla prima posizione e si arriva in questa situazione la quicksort la prima che è stata invocata ed è andata in esecuzione chiama se stessa indicando come estremi inizio-fine 0 e 6 saremmo qui parti da 0 una nuova quicksort verifica che inizio sia ancora più piccolo di fine altrimenti avremmo finito di ordinare quel pezzettino e comanda il suo partizionamento tra 0 e 6 è questo il partizionamento come prima era venuto con l'81 verrà adesso con il 45 che viene messo nella sua posizione contando quanti sono quali più piccoli di lui e arriviamo qui anche questa seconda quicksort mentre la prima è ancora in sospeso fa la sua chiamata a sinistra e si mette ad aspettare anche lei in questo momento dopo che sarà partita questa quicksort ne avremo 3 attive quella del main quella chiamata quicksort 0.6 è quella che adesso sta chiamando quicksort 0.2 da inizio a posizione pv meno 1 quicksort 0.2 su questo piccolo vettore qua il partizionamento c'è un errore avverrebbe con il meno 3 si prende sempre l'elemento che è in posizione inizio 0 in questo caso ma non ce n'è più piccolo di lui quindi non verrà riposizionato meglio lo sarà con se stesso il meno 3 scambiato con il meno 3 il partizionamento di fatto non partirebbe neppure perché la i piazzata in corrispondenza di inizio già fin da subito non sarebbe minore di posizione pv partiremmo successiva chiamata a quicksort vedrebbe come indici inizio il solito 0 posizione pv meno 1 ma vorrebbe dire meno 1 non si può più scendere il meccanismo ricorsivo deve fermarsi altrimenti avremmo dei grossi guai andare avanti teoricamente all'infinito ma si ferma ed è proprio il senso di questo controllo abbiamo raggiunto la cosiddetta base della ricorsione il caso in cui sappiamo già qual è il risultato cioè l'ordinamento di un vettore che ha un solo elemento è il vettore stesso non facciamo nulla se non return l'ultima funzione quicksort chiamata e attiva è quella che finisce per prima si torna indietro lungo l'albero delle chiamate chi è quella che più profondamente è rimasta in attesa intendo di quicksort per poter chiamare se stessa a destra quella che ha lavorato qui sul vettore con tre elementi chiamerà la quicksort sulla parte di destra con gli elementi 10 e 1 e lo farà indicando gli indici come inizio quello del 10 che è 1 rispetto al vettore originale e l'indice in cui trova il valore 1 è invece 2 ovviamente quicksort 1 2 verrà considerato come pivot l'inizio tra virgolette per questa quicksort che è l'elemento in posizione 1 quanti sono quelli piccoli di lui? soltanto l'1 si scambierà allora l'1 con il 10 il pivot viene messo al posto giusto ma poi il partizionamento si fermerà subito e anche questa quicksort rapidissimamente termina se ritorna al controllo di questa che potrà finire anche lei perché ha già chiamato a sinistra a destra si ritornerà indietro si scongela la seconda quicksort che era stata invocata e che era lì ad aspettare sulla sua chiamata a sinistra nella parte rossa finalmente potrà fare la sua chiamata a destra per ordinare la parte blu questa quicksort riceverà come estremi 4 l'indice 78 e 6 l'indice dell'altro 45 qua sotto si procederà al partizionamento del 78 6045 prendendo come pivot il valore 78 ce ne sono due più piccoli di lui insomma in pratica il 78 verrà scambiato con il 45 ma poi non avrà più alcun altro scambio e sotto si procede come abbiamo già visto a sinistra quando la quicksort 06 vedrà restituirsi il controllo dopo aver chiamato era anche lei in attesa qui sulla sua chiamata a destra potrà allora terminare il controllo tornerà al quicksort del main che potrà cominciare a esplorare la sua parte destra siamo ritornati ad avere una sola funzione attiva quicksort l'esplorazione e la sistemazione della parte di destra sarà molto più veloce perché andrà a lavorare soltanto sulla parte qua in verde con il 115 98 si procederà subito a scambiare mettendo il pv 115 al post del 98 poi le quicksort scopriranno che non c'è più niente da ordinare e si terminerà con il vettore interamente ordinato penso che abbiate abbastanza materiale da digerire con calma abbastanza tostarello fa comodo anche a me per spezzare in due la parte sul quicksort nella prossima andremo ovviamente a ragionare sulle performance faremo un po' di simulazioni qualche ragionamento sulla scelta del pv l'unico modo e altro a risentirci che si tratta